Regione Toscana, il Consiglio regionale. La Toscana approva la prima legge a tutela dei riders. Il Consiglio regionale ha approvato l'atto, primo firmatario il Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo ed è stato approvato a maggioranza. Un documento tecnico di valutazione dei rischi definirà i dettagli per la formazione obbligatoria a carico delle imprese, il monitoraggio, il controllo e la prevenzione in materia di sicurezza, a prescindere dalla tipologia del contratto in essere. Il datore dovrà fornire dispositivi di protezione individuale, abbigliamento consono a turni di notte e in condizioni meteo avverse. La Toscana con questa iniziativa apre ai diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali con la prima legge in Italia che è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta odierna a larga maggioranza con il voto di astensione del gruppo della Lega. La norma prevede la redazione di un documento tecnico di valutazione dei rischi che la Giunta approva con un'apposita delibera, come base per impostare le forme di tutela necessarie. Si dovrà inoltre promuovere l'istituzione del rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori, a prescindere dalla tipologia del contratto sottoscritto. Il monitoraggio e il controllo, anche ai fini della prevenzione, saranno svolti dai servizi prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro delle aziende e unità sanitarie locali. Consentitemi di dire che sono orgoglioso e anche un po' emozionato perché il giorno in cui fui eletto Presidente del Consiglio regionale dissi che uno dei compiti principali dell'Assemblea legislativa era cercare di dare voce a chi aveva meno voce e oggi dietro un rider o dietro un fattorino di Amazon non ci deve essere un algoritmo come spesso viene rappresentato ma c'è una persona, c'è un lavoratore e come tale deve avere diritti, più diritti rispetto a quelli che aveva oggi, a partire da quelli basilari come penso la salute e la sicurezza sul lavoro. Io sono orgoglioso che la Toscana sia la prima regione italiana ad aver approvato una legge di questo tipo, una legge che dà più formazione, più tutele, più sicurezza nel mondo del lavoro, che richiede che i nostri uffici della prevenzione delle ASL facciano maggiori controlli in maniera più serrata, che imponga alle aziende di concedere la presenza di un rappresentante per la sicurezza sui luoghi di lavoro, che dia a questi ragazzi, a queste ragazze che ogni giorno portano il cibo o i vestiari a casa nostra, gli diano la possibilità di avere tutto il materiale tecnico che serve per qualunque condizione, sia giorno, notte, pioggia o sole. E non è così, non è scontato. Noi troppo spesso diamo per scontato e tante cose. In realtà questa oggi è una legge di grande dignità e un passo avanti. Non so quanto grande o quanto piccolo, ma è un passo avanti rispetto alla tutela del lavoro. E chi si impegna nelle istituzioni dovrebbe porla sempre al primo posto. Ora su questo lavoreremo insieme alla Giunta per dare attuazione, per dare risposte concrete. E mi piacerebbe che questa legge potesse diventare un modello non solo in Toscana, ma in tutte le altre regioni d'Italia. Perché ogni lavoratore che lavori in Toscana o lavori in un'altra regione deve avere gli stessi diritti. Noi abbiamo fatto la nostra parte. Ringrazio tutte le colleghe e tutti i colleghi per averci creduto e averci lavorato. Ringrazio i tanti rider che ho incontrato in queste settimane, in questi mesi. Noi con questa legge operiamo nell'ambito della nostra competenza in materia di tutela e sicurezza sul lavoro e di salute pubblica nel momento in cui il lavoro si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico. Con questa norma, che ripeto, rientra in queste competenze e che nonostante c'è stata un po' di discussione in Commissione, ma è chiaro e pacifico sia perché lo dice la norma nazionale, sia perché ci sono interpretazioni giurisprudenziali che sono sopraggiunte, che la normativa e l'impianto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano ai lavoratori delle piattaforme digitali, sia che questi lavoratori siano inquadrati come autonomi o come dipendenti. Quindi è in questo quadro che noi interveniamo con questa norma, che prevede che si elabori un documento tecnico, che vada a analizzare quali sono i rischi specifici di questo lavoro, individui come si fa a prevenirli, quali sono gli strumenti di sicurezza sul lavoro che devono essere forniti a questi lavoratori, qual è il livello di formazione che deve essere fatto, qual è il livello di tutela sanitaria e prevede altresì che si favorisca la realizzazione, la nomina, l'istituzione dei responsabili dei lavoratori sulla sicurezza. Abbiamo votato a favore, siamo favorevoli a questo genere di interventi perché le disuguaglianze tra lavoratori sono sempre più crescenti e anche a fronte di nuove modalità di lavoro, quello con piattaforme digitali, ma dobbiamo pensare anche ai molti lavoratori smart working che hanno comunque necessità per esempio di tutela della loro salute nella modalità differente in cui lavorano. Le sfide che dobbiamo affrontare non soltanto per la pandemia ma anche per un modo di lavorare diverso sono molte. Il Governo nazionale è giusto che intervenga per creare omogeneità, ma ben venga laddove ci sono delle buone proposte che anche le regioni si attivino in tal senso. Da questo punto di vista con la Ministra Annunzia Catalfo sono stati gettati i semi per molti di questi progressi che devono essere fatti nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro e soprattutto della tutela della dignità di tutti i lavoratori. Sta a questo Governo adesso riuscire a portarli avanti. Dunque noi ci siamo astenuti, ci siamo astenuti non perché non riteniamo giusta la legge, ma perché ovviamente le tutele per i lavoratori devono essere di pari grado sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi. Ma questa legge mi sembra che sia distante dalle istanze della gente comune, cioè aggrava soltanto una situazione di orpelli burocratici dove a un certo momento si chiede il responsabile della sicurezza dei lavoratori per una categoria di persone che fa della flessibilità uno dei motivi per cui questa piattaforma digitale dovrebbe essere attivata. Io credo che si parla tra l'altro di stress da consegne. Ora se qualcuno deve avere lo stress da consegne sono per esempio i camionisti, non certo i rider che devono portare una pizza oppure devono fare dei corsi di comportamento stradale, ma vi rendete conto che chi deve avere a un certo momento la patente perché c'è il motorino o la macchina ovviamente già l'ha fatto, chi deve andare in bicicletta lo facciamo per tutti oppure è inutile che si debba fare corsi di questo genere. Era essenziale dare questo segnale, sono orgoglioso di essere presidente di una regione che approva una legge che ha queste caratteristiche in un momento in cui l'attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità di lavoro, anche in un lavoro che si evolve e che quindi vede la tecnologia, farla sempre più da padrone, riesce a dare tutela e maggiori condizioni di sicurezza. Lo abbiamo detto anche in occasione di quel momento drammatico che rimarrà scolpito nella mia vita quando ci siamo trovati di fronte all'ennesimo fatto accaduto in una fabbrica tessile nel comune di Montemurlo che ha spezzato la vita a una giovane ragazza. Ecco, la sicurezza è la condizione essenziale e noi costruiremo un sistema di leggi e di supporti economici per poter sostenere con ispettori la garanzia e il controllo in materia di sicurezza del lavoro e quella di oggi, la legge è oggi approvata un'ulteriore tappa in questa sorta di avanguardia che la regione toscana sta avendo proprio nell'ammodernamento del suo sistema legislativo ma anche nelle azioni concrete per arrivare a questo obiettivo. Sui rider va fatta una precisazione perché è doverosa, perché anche tanti ragazzi che svolgono questa professione ce lo chiedono. La regione toscana con la legge che abbiamo votato oggi non trasforma la figura del rider in un lavoratore subordinato. Questo è ovviamente un qualcosa che spetta alla normativa nazionale. La regione toscana oggi fa soltanto un passo, che sia piccolo o grande, lo scopriremo col tempo e con i risultati, nella tutela della salute e della sicurezza di chi svolge questo lavoro. Ci ammettiamo un piccolo tassello, piccolo, nella speranza che sia soltanto il primo, a tutelare la salute e la sicurezza di questi ragazzi che fanno lavori rischiosi, perché lo sappiamo tutti, stanno in mezzo al traffico, girano con mezzi leggeri, biciclette, motorini, corrono perché a volte qualche secondo per loro può determinare la riuscita lavorativa di una giornata. Quindi noi oggi abbiamo fatto un piccolo passo nella tutela della sicurezza dei rider. Da un punto di vista del contratto lavorativo restano con il contratto che avevano fino adesso, cioè non è che risolviamo il problema, continuano a lavorare a cottimo, a partita IVA e non certo come lavoratori subordinati. Abbiamo votato a favore, abbiamo condiviso l'impianto della legge, perché riteniamo opportuno dare nuovi diritti, di istituire dei principi che possono dare un'opportunità di tutela e di garanzia a delle persone che ovviamente lavorano, che hanno delle opportunità a saltuare di lavoro, ma in quella opportunità ci possa essere la tutela della loro vita, soprattutto in un momento come questo, dove molte volte si riscontrano anche dei morti sul lavoro. Quindi ogni norma che va nella direzione di tutelare i diritti e soprattutto le garanzie delle persone che lavorano, a mio avviso, deve essere colta in termini molto positivi, una legge innovativa che mi auguro possa essere apripista a livello nazionale. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di risoluzione che approva la relazione sulle attività svolta nel 2020 dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza. L'atto, illustrato in aula dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, esprime apprezzamento positivo sul lavoro svolto dal Garante e l'impegno a supportare e sostenere effettivamente il percorso intrapreso, volto a migliorare gli standard di efficienza e la capacità di risposta dell'ufficio nei diversi ambiti di competenza. Critiche sull'operato del Garante sono arrivate dalle minoranze. Il Consiglio regionale ha votato a favore della proposta di risoluzione relativa al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza a seguito di un'istruttoria che è stata compiuta in prima commissione con l'audizione della Garante della Regione Toscana, la dottoressa Bianchi. Il 2020 è stato sicuramente un anno difficile, un anno caratterizzato dalla pandemia, ma anche l'anno delle elezioni regionali. Nonostante tutte queste difficoltà, l'attività del Garante per l'infanzia non si è interrotta ed è proseguita, è proseguita con la stessa efficacia di sempre, anche se vi è la necessità di una riorganizzazione degli uffici. Importante è stato il contributo che il Garante nel 2020 ha dato alla tematica del cyberbullismo, addirittura c'è stata una pubblicazione che è stata sostenuta e promossa dal Garante. La Lega, così come ha fatto in commissione, anche in aula ha votato contro la relazione delle Garante per l'infante e l'adolescenza, che ci è sembrata soprattutto una enunciazione di numerosi vorrei ma non posso. Questo perché il Garante è oggettivamente una figura debole, voluta con forza dalla sola maggioranza e non messa in condizione di operare con una struttura adeguata anche dal punto di vista del personale. Infatti ci sono soltanto tre funzionali, di cui un dirigente, altre due figure, di cui una facenti compiti di segreteria. Non è stata ancora conclusa la convenzione con l'Istituto degli Innocenti, che pure sarebbe importante per tutta una serie di ricerche e di approfondimenti indispensabile per far funzionare in modo adeguato la figura del Garante dell'infanzia. Quindi manca il personale. Non ci sono gli strumenti opportuni di conoscenza, una relazione che sostanzialmente è molto didascalica, piena di buone intenzioni, ma quello che vogliamo per la Toscana sono fatti concreti e di fatti concreti in questa relazione ne leggiamo veramente molto pochi. Occorre in ultimo ricordare che il Garante per l'infanzia ci costa di rimborsi circa 13 mila euro all'anno e in questo periodo così difficile ci sembra oggettivamente troppo. In questo momento l'infanzia e anche l'adolescenza è sottoposta a uno stress maggiore di quanto ha avuto in precedenza e il ruolo del Garante diventa fondamentale per cercare di registrare quello che è l'allarme che viene dai nostri bambini, dai giovani e dalle loro famiglie. L'attenzione al cyberbullismo, l'utilizzo delle nuove piattaforme, le relazioni a volte complesse che ci sono nelle famiglie sono tutti ragioni per attenzionare al Garante delle situazioni che possono diventare diffuse e che in qualche maniera vanno analizzate e credo che sia fondamentale investire nei bambini e nei giovani anche in questo senso con la tutela che è la cosa principale che dobbiamo fare non soltanto come genitori ma anche noi come istituzioni. Regione Toscana, il Consiglio regionale Regione Toscana, il Consiglio regionale Regione Toscana, il Consiglio regionale